Welcome to my school house Quando anche la pianta è il maestro Baldi sai che ti deve preoccupare Ma che cavolo Non mi aspettavo che anche le piante diventassero il maestro Baldi Ma è tanto meglio guarda Non ho mica paura di te Neanche se ti moltiplichi per 45 E ti... E vabbè ma anche il quaderno è il maestro Baldi Esageriamo così eh Vabbè ma anche il tablet è il maestro Baldi Sì lo so fai le tue domande Quelle non cambiano mai ragazzi Siamo in una nuova versione Se il signor maestro mi lascia parlare Scusi eh Sarebbe il mio turno Dovrei... Oh sta reggito Grazie oh finalmente Beh comunque come avrete indovinato ragazzi Sta di nuovo parlando Sta di nuovo parlando E anche il soldino è il maestro Baldi Lo devo prendere per forza Prefere di non averlo Vabbè lo prendo Grazie eh In ogni caso ragazzi l'avete indovinato Siamo in un'altra versione di Baldi's Basics Dove stavolta tutti sono il maestro Baldi Non vedo l'ora di vedere Timoti saltacorda Con la faccia del maestro Baldi Sì sì lo so A meno uno Diciassette E questo qua fa ottocentoquarantaquattro Secondo me No no ti sbagli tu Baldi Faceva ottocentoquarantaquattro Ma guardate Ecco qua Iniziamo Mi sa che sei Sbacchetta di già eh Dove sta? Beh Baldi e Baldi Questo è ovvio Cioè non è che ci potevamo aspettare che Baldi Ah no Dai che schifo Ma quanti... Ok ok aspetta aspetta Sì sì scuso Ho sbagliato Saltato alla corda Ma c'è l'altro Baldi Ah È un'associazione a delinquere Eh ho capito però Delinquenti Già si sono alleati Hai visto? Ok questa volta non mi faccio fregare Da Baldi saltacorda Ok Non vedo l'ora di vedere Eccolo Porca miseria Sì vabbè ho capito Ok salto la corda Salto la corda Sono pronto Vai Uno Due Sembra molto più aggressivo del solito Tre Quattro E cinque Ok Oh Mamma mia quanto sei odioso Ora non solo nessuno vuole giocare con lui Ma anche Sì ma anche la porta è Baldi Ma è una fregatura Sì Non è possibile così Di là c'è il calzino Che è Baldi Che è schifo Il calzino di Baldi Non lo vorrei neanche prendere Manco per scherzo E di là c'è il preside Baldi Oh mio dio E poi le porte che sono Baldi Sono la cosa peggiore secondo me Lì non possiamo entrare Perché altrimenti il preside Baldi ci sospende Stiamo attenti a correre nei corridoi Perché non vogliamo Che il preside Baldi ci colga di sorpresa Prendiamo questo quaderno Baldi Che cosa ne Baldi dite Secondo me potrebbe essere una Baldi buona idea Eh Meno cinque Uno meno otto Meno sette Trentadue Sì Trentadue Non era trentadue strano Secondo me era trentadue Allora Dovevo stare attenti Perché lui ci sta alle nostre spalle Eccolo lì È abbastanza vicino Tagliamo da questa parte Secondo me E cerchiamo di raccattarci una Baldi Barretta energetica Sì Questa non mi farebbe schifo per niente La vorrei Eccola qui Baldi Barretta Super buona Porca miseria Sì Timoti Baldi Corda Sei un rompiscatole Decisamente un rompiscatole Porca cotrettola Come fai schifo Ma mi prende in giro Wow Fai schifo Grazie Vedi si vede che è la versione di Baldi Perché è offensivo Baldi è sempre offensivo Quello schifoso Questa volta non mi faccio fregare Quel maledetto di Baldi salta corda Arriva sempre alle mie spalle Quindi Io me ne frego E vado da questa parte invece Lì c'è Oh mio dio Dobbiamo vedere sweep sweep Baldi Che schifo però eh E vabbè ma non si può così Ma che egocentrico che è Baldi eh Vuole che tutti i personaggi Abbiano la sua brutta faccia Non gliel'ha mai detto nessuno Ma lo dovrebbe sapere È brutto Secondo me lui non lo sa Perché sai Magari si è convinto Che la sua pelata Il preside Baldi Attenzione non corriamo Possa essere affascinante Ma in realtà non è così Buongiorno Buongiorno E quindi ha detto Baldi fondiamola Diamola un po' a tutti Che secondo me piace E io ho visto qualcosa Che non mi è piaciuto per niente Le forbici Baldi Siamo seri? Va bene 9-7 2 2 più 1 3 E 4 Va bene Perfetto Siamo d'accordo Che sono il maestro Della matematica Ora 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 Possiamo difenderci Da Timothy Baldi Corda Ok Però Dobbiamo stare molto attenti Dobbiamo stare molto attenti Al Baldi principale Vedi che quello là Inizia ad essere aggressivo Secondo me rompe le scatole Quindi Diamo una sprintata finale Arriviamo al prossimo taccuino Poi dobbiamo stare attenti Perché Secondo me Quando andiamo a uscire Ce l'abbiamo proprio dietro Quindi 8 7-8-1 3 Bene 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 Torniamo sulle tracce Dei prossimi taccuini Mi sento che questa volta Potremmo farcela Sapete Nella versione suprema Dove tutti sono Va Che paura Porca cutretto Da inferocita Ma ti pare modo Ma il disgraziato Accelerato That's me Eh That's you That's you Infido sei Oh Mi sembra di sentire Che cacchio è stato Era l'esperimento scientifico Credo Però non lo vedo più Mi sa che ha spinto Il maestro Baldi Va bene Va bene Se arriva Baldi Salta corda Abbiamo le forbici Quindi siamo pronti Possiamo prenderci Quest'altro taccuino Da questa parte E secondo me Siamo abbastanza Nella via giusta Per vincere Questa volta Allora Mettiamo così Non sbagliamone nessuna Perché altrimenti Diventa più difficile Inutilmente Adesso Se il maestro Mi lascia uscire Questa volta Io do un'accelerata Ma neanche troppo Perché sento Che c'è Il direttore E se quello Ci scopre Correre nei corridoi Quel Baldi Direttore Rompe sicuramente Le scatole Quindi Procediamo con calma E passiamo di qua Ok Ci servirebbe Una barretta energetica Però Ci farebbe veramente comodo Una barretta energetica Ma non la trovo Quindi mi prendo questo E questo Lo possiamo Eh la barretta è lì Ma allungherei troppo La strada Dobbiamo respingere Baldi Ok Tiè Oh anche il rutto Eh di Baldi Ok perfetto Lì c'è il calzino Baldi E qui c'è un altro Tacuino Perfetto Perfetto Dovremmo anche aver spinto Baldi abbastanza lontano Eh Eh Due Perfetto Eh Sto iniziando a diventare Veramente intelligente Perfetto Perfetto Ora Siamo a 5 di 7 E non è male Non è per niente male Allora Da quella parte C'è il calzino Però il maestro Baldi Ci insegue Ma quanto è brutto E di là c'è il Baldi Bullo Che schifo Eh Qua è un problema Allora noi abbiamo il soldino Quindi tecnicamente Possiamo passare Il problema è che Baldi Ce l'abbiamo alle spalle E si sta avvicinando Sì Ti do il soldino Non ti preoccupare Baldi Bullo Ma ti sei fregato Le forbici Ai 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 Questa non ci voleva Questa non ci voleva Ma ci servirebbe Sweep sweep Baldi Solo lui ci può aiutare Secondo me Queste sono le aule iniziali C'è l'esperimento Baldi scientifico Eh ma è Baldi Quello vero È vicino L'esperimento Baldi scientifico Intervieni Vai vai Intervieni Bravo bravo Spingi spingi Fai qualcosa No Baledetto Saltacorda Dai Ce l'avamo quasi Se non interveniva Quel cavolo di Baldi Saltacorda Ok ok Basta Questo è un incubo E io che pensavo Che con tutti i saltacorda Fosse brutto Qua tutto è Baldi Ed è ancora peggio Per questa volta ragazzi Direi che possiamo Concludere qua Spero che il video Vi sia piaciuto Ci sono altre versioni Stravaganti di Baldi Fatemi sapere Se ne volete vedere di più E Lion Out Tutto Grazie a tutti.